Il nostro camminare alla ricerca, ma verso la felicità, perché guardate, quando io dico camminare alla ricerca della felicità, non è che noi cerchiamo senza sapere dove andare, chiedo scusa. No, noi sappiamo dove andare, perché noi sappiamo che la nostra felicità ha una sola meta, cioè Cristo, punto. E dice Paolo, è Cristo crocifisso, perché come abbiamo detto più volte, la nostra felicità è la felicità, meglio, è la gioia della croce. Quindi sappiamo bene dove andare, però dobbiamo andare e camminare con i nostri passi. Dobbiamo andare e camminare da uomini, non da angeli o da superuomini, ma da uomini normali, felicemente normali, limitati, coscientemente limitati, ma anche e soprattutto con la coscienza e con la consapevolezza che noi siamo fatti non solo di terra, ma anche e soprattutto di cielo, perché Dio ha messo dentro di noi il seme della speranza, della fede e della carità, che sono appunto semi che poi portano al frutto della felicità. Ma voglio anche oggi leggervi ancora una piccola parte della Catechese di Papa Francesco sulla speranza tenuta il 20 settembre del 2017 e che ci sta accompagnando, ci sta facendo da apripista in questa nostra tappa di queste nostre trasmissioni. Dice Papa Francesco, ama le persone, ama le ad una ad una, rispetto al cammino di tutti, lineare o travagliato che sia, perché ognuno ha la sua storia da raccontare, anche ognuno di noi ha la propria storia da raccontare. Ogni bambino che nasce è la promessa di una vita che ancora una volta si dimostra più forte della morte. Ogni amore che sorge è una potenza di trasformazione che anela la felicità. Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre, difendila, proteggila. Quell'unico lume è la ricchezza più grande e affidata alla tua vita. amare le persone. Ma dice Papa Francesco che le dobbiamo amare così come sono, con i loro travagli, con le loro difficoltà e con le loro potenzialità. Invece noi molte volte vogliamo amare le persone quando le persone corrispondono ai nostri criteri, ai nostri desideri. Quando due persone vanno insieme d'accordo, spesso si dice ma perché voi andate insieme così d'accordo? Poche persone a me hanno detto che sono diverse l'un dalle altre e che si accettano e si vogliono bene proprio per queste differenze. Molte altre perché sono unite semmai dalla stessa passione per il calcio piuttosto che per la politica e quindi per lo stesso partito, oppure hanno le stesse idee, cioè si ritrovano, si ritrovano solo sui sì. Poi i problemi iniziano ad esserci quando emergono inevitabilmente i no, le diversità di opinioni, le diversità di decisioni. Amare le persone nella loro realtà e nelle loro differenze che appunto molte volte le fanno molto diverse da noi è un segreto per essere felici, per alimentare la speranza e per seminare speranza. Io vi aspetto domani, Padri Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao! Ciao!